A ulteriore conferma che in Brasile c'è un clima da colpo di Stato e non un avvicendamento qualsiasi, lungi dal limitarsi agli affari correnti, il governo del Presidente ad Interim, Michel Temer, come primo provvedimento avrebbe deciso la nomina del nuovo Presidente della Banca Centrale. Si tratta di Ilan Goldfein, nativo israeliano, esponente di spicco di Itaú, la maggior banca privata brasiliana e consulente per la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Già da ora il presunto Presidente in pectore del Banco Central do Brasil tuona contro la corruzione come causa di tutti i mali e annuncia sedicamente che la classe media dovrà affrontare la decimazione dei suoi sogni. Goldfein ha stimato che per uscire dalla crisi attuale il governo dovrà prendere misure impopolari come l'aumento delle tasse, tagli al bilancio e l'innalzamento dell'età di pensionamento. La solita litania neoliberista sul popolo che vive al di sopra dei propri mezzi. Certo sarebbe curioso vedere un paladino del rigore della pulizia morale mentre riceve l'incarico dalle mani del neogoverno, guidato da politici pieni di carichi penali per corruzione, a partire dall'azzimatissimo asset degli USA, Michel Temer. Martedì la riunione del gruppo internazionale di sostegno alla Siria ha riconfermato la necessità di rafforzare il regime di cessate il fuoco e di garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Repubblica Araba. Nessun accordo invece sul futuro del presidente siriano Bashar al-Assad, sostenuto da Mosche da Teheran, né sulla data della ripresa dei negoziati di pace a Ginevra. Nel corso dell'incontro, il ministro degli affari esteri della federazione russa, Sergei Lavrov, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i curdi nelle trattative sulla Siria. Infatti, come affermato dal rappresentante del Partito dell'Unione Democratica in Francia, Khaled Issa, i miliziani dell'Unità di Protezione Popolare disattenderanno le raccomandazioni adottate a Ginevra senza la loro partecipazione. Ma Ankara si oppone. La cittadina di Asaz, in provincia di Aleppo, al confine tra Siria e Turchia, si sta trasformando in una roccaforte di Al-Qaeda. Potrebbe essere questo il motivo alla base dell'aumentata attività dell'organizzazione terroristica Jebqat al-Nusra nella regione. Al-Qaeda starebbe pianificando di trasferire il proprio quartier generale dal Pakistan in Siria, per la creazione di un Emirato nella Repubblica Araba, scrive il New York Times citando alcune fonti dell'intelligence statunitense ed europea. Secondo il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, alcuni stati starebbero inviando ai terroristi una grande quantità di carri armati. L'ennesima protesta del popolo francese contro la riforma del lavoro è degenerata in uno scontro tra dimostranti e forze dell'ordine. Alle manifestazioni hanno preso parte fino a 220.000 persone in tutta la Francia, 55.000 nella sola Parigi, 87 gli arresti. L'ondata di malcontento popolare si è intensificata in seguito alla decisione di Parigi di adottare la legge senza l'approvazione dell'Assemblea nazionale. Ma François Hollande, la cui popolarità è scesa ai minimi storici, vuole andare fino in fondo. Martedì, in un'intervista per l'emittente radiofonica Europa 1, ha detto di voler essere ricordato come un presidente che ha condotto delle riforme, seppure impopolari, e non come un capo di Stato che non ha fatto nulla. L'intelligence militare della Repubblica Popolare di Donetsk avrebbe scoperto nell'area di Mariupol, controllata dalle forze ucraine, una base di addestramento dei terroristi dell'Isis provenienti da paesi arabi. I terroristi opererebbero anche nelle truppe mercenarie, agli ordini di Kiev. Secondo i dati della ricognizione, a condurre l'addestramento di nuovi adepti sarebbero direttamente alcuni comandanti di Daesh. La rotazione dei reparti mercenari avrebbe messi in mente. Gli uomini così addestrati passerebbero direttamente in Medio Oriente, attraverso l'Ucraina e la Turchia. Gli interessi comuni tra Ankara e Kiev non toccano dunque solo il transito dei prodotti energetici. Le assonanze ideologiche e le comuni simpatie filo naziste dei due paesi sono fattori determinanti nell'appoggio italiagole, ai danni anche dell'Europa. Sette migranti provenienti dall'Ucraina hanno tentato di raggiungere la Gran Bretagna illegalmente, per la modica cifra di 7.000 euro a persona. La polizia francese ha arrestato i marinai del comune Bretone di Saint-Que-Portreux con l'accusa di traffico di migranti e ha imposto ai cittadini ucraini di lasciare immediatamente la Francia, dove erano arrivati con un visto turistico. Secondo le forze dell'ordine francesi, la rete criminale disporrebbe di almeno 20 imbarcazioni. Lo scorso aprile la Commissione europea ha presentato all'Europarlamento e al Consiglio dell'Unione una proposta per la liberalizzazione dei visti con l'Ucraina.